Le psicosi hanno, questo è noto ormai in Europa e anche in Italia, grazie agli studi che abbiamo condotto a Bologna, a Verona e a Palermo, ma anche in altri centri di ricerca nel nostro paese hanno un'incidenza più alta nei migranti. Quindi questo chiaramente è un dato che è stato registrato in Italia così come in altri paesi europei e da lì è partita la ricerca di quale possano essere le spiegazioni per questo cosiddetto eccesso di psicosi nei migranti e quello che si è osservato è che in effetti ci sono dei fattori di rischio noti per le psicosi come per esempio avere una vulnerabilità pregressa a situazioni difficili dal punto di vista sociale, quindi essere più esposti ai traumi infantili o a svantaggi sociali durante la storia migratoria anche prima di partire dai paesi di origine e poi soprattutto essere esposti massivamente nei paesi di accoglienza a dei fattori di svantaggio sociale, quindi la scarsa disponibilità per esempio di adire a dei sistemi di istruzione, quindi avere un livello di istruzione compatibile con quello che è la richiesta anche dei paesi ospitanti, avere scarse opportunità lavorative o lavori molto precari, vivere in situazioni precarie quindi dal punto di vista anche sociale abitativo con la famiglia di origine, con poco spazio, avere in sostanza situazioni un po' di isolamento sociale e di marginalità sociale è più frequente quando appunto si ha una storia migratoria nei paesi occidentali e questo è drammatico perché i migranti in realtà contribuiscono in modo molto importante sia il nostro fabbisogno sociale di servizi, di produzione di servizi pagando tasse, svolgendo impieghi molto importanti soprattutto nel settore socio-sanitario ma soprattutto prima ancora che questo contribuiscono al bisogno demografico, quindi noi saremmo un paese di morti se non ci fossero i migranti nel senso che purtroppo le natalità sono in costante decremento e l'Istat ha appena pubblicato un dato che quest'anno, l'anno passato nel 2019, abbiamo avuto il livello più basso di natalità dal 1916, quindi da poco dopo la prima guerra mondiale, quindi abbiamo bisogno dei migranti, abbiamo bisogno dei migranti e al tempo stesso i migranti che sono spinti a emigrare, per le questioni socio-economiche che caratterizzano la nostra economia globale, quindi scarsa opportunità di lavoro nei paesi dove i migranti vivono, nonostante abbiano tantissime ricchezze che noi sfruttiamo ma noi non creiamo lavoro là dove i migranti vivono, quindi si spostano seguendo queste traiettorie alla ricerca di lavoro, si spostano perché sono costretti dalle guerre e dalle persecuzioni, si spostano non ultimo per i drammatici i cambiamenti climatici che sono in atto, quindi per esempio la desertificazione della Nigeria ha prodotto più morti della Giad, pertanto tornando noi alla salute, alla salute e alla salute mentale, sono persone che si muovono seguendo un movimento globale, quindi sono pochissime le scelte individuali, una volta arrivati qui hanno pochissime possibilità di inserimento efficace e condizioni di vita estremamente precarie che si sommano alle vulnerabilità pregresse e da lì chiaramente in generale una vulnerabilità poi allo sviluppo di psicosi maggiore rispetto ai nativi. Poi se vogliamo invece occuparci di eventuali differenze legate per esempio a essere uomini e a essere donne nel sviluppo di psicosi tra i migranti, vediamo che le donne sono più vulnerabili ad aver subito traumi durante il percorso migratorio, la stessa cosa accade ai bambini drammaticamente perché sono molto i minori non accompagnati ma le donne come categoria di genere sono più esposte a tutti i maltrattamenti sessuali, fisici, psicologici, quindi hanno questo fattore di rischio più spiccatamente presente rispetto agli uomini nelle loro storie, nelle loro biografie migratorie e in più spesso seguono flussi passivi soprattutto quando vengono dall'Africa, dal Nord Africa, cioè vengono a seguito dei mariti, dei compagni, cosa che non è così per l'est Europa dove invece le donne lasciano le famiglie per venire in Europa occidentale e si verifica lì l'altro dramma che è lasciare soli i figli, questi bambini che crescono soli o affidati ai nonni e che quindi sono più esposti a una serie di problematiche tra cui anche lo sviluppo eventualmente di disturbi mentali gravi come le psicosi.